Buongiorno, ben svegliati e bentornati alla rassegna stampa di Super J. Anche stamattina leggiamo insieme le notizie pubblicate dai quotidiani locali, il centro e il messaggero. Cominciamo con il centro, vediamo la prima pagina. Parcheggi a pagamento, oggi si riparte a Teramo, strisce blu, via all'installazione dei parcometri, sconti anche sulle tariffe. Il postelezioni a Martinsicuro, Vagnoni, dopo il plebiscito c'è subito la grana dell'Aggiunta. La polemica dopo il voto, il centro-sinistra contro Marsiglio, frasi inaccettabili, ora deve scusarsi. La ASL fa ricorso contro l'assegno ai non vaccinati dopo la sentenza del TAR. Ai prati di Tivo la riapertura è di nuovo bloccata, il Consiglio di Stato sospende la vendita degli impianti fino all'udienza del 12 luglio. Gli eventi a Montorio, Panariello e Placido in scena, calendario estivo ricco, ci sono anche Morelli e Renga. A Roseto c'è un divieto di balneazione, ma scoppia la polemica per quanto riguarda il calcio di Serie C. Il Teramo è appeso al contributo delle aziende. Oggi si farà un punto della situazione per cercare di capire quanti soldi sono stati raccolti finora per l'iscrizione al campionato. Abruzzo il post-voto, la polemica, il centro-sinistra si ribella, Marsiglio frasi inaccettabili. Dopo le accuse di ricatti agli elettori, Paolucci si rivolge a Biondi, prenda le distanze. L'asse PD Movimento 5 Stelle imploso è stata solo una finzione, lo dice il coordinatore regionale di Italia Viva. Alleanze per il deputato D'Alessandro serve un centro civico e riformista, Renzi in Abruzzo, il prossimo 28 di giugno. Il Movimento 5 Stelle non riesce più ad aggregare il senatore Castaldi, chiamato a ricostruire il movimento in Abruzzo come coordinatore. Coronavirus, qual è la situazione nella nostra regione? Omicron 4 e 5 fanno paura, parruti, serve la mascherina. L'esperto, oltre ai casi, già raddoppiate le visite ai sintomatici in dei hospital. Timori per una nuova impennata che potrebbe far tornare a crescere i ricoveri. Lavoro, i dati diffusi dall'Istat. Abruzzo, crollano le esportazioni e l'inflazione si mangia i risparmi. L'economista Mauro, l'export mostra una regione a due facce. Bene, Teramo e l'Aquila, male Pescara. Su Chieti, la crisi dell'automotive, meno 8,8% nel primo trimestre. Trascina, in basso, il manifatturiero. Abruzzo, c'è una bandiera blu per ogni 10 chilometri di costa. Ieri a Pescara, la cerimonia ufficiale di presentazione delle località che hanno conquistato il vessillo Marsiglio. Abbiamo numeri da record e il dato più alto in Italia. Il nuovo ingresso è Alba Adriatica. Per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla provincia di Teramo, i dettagli della notizia che abbiamo letto in prima pagina. La sosta in centro al Via La Rivoluzione, strisce blu, parte il nuovo sistema, parcometri e sconti sulle tariffe. Da oggi il cambio di gestione al Via L'installazione di 33 colonnine, pagamenti anche e tramite le app. Ridotto di 30 centesimi il costo della seconda ora di fermata aumenta per occupazioni prolungate. Tutti i dettagli li possiamo ascoltare anche nel servizio che abbiamo realizzato ieri noi per il nostro telegiornale. Da domani parte formalmente la gestione da parte della Easy Help, delle strisce blu in centro storico a Teramo. Ieri sono stati riassorbiti i 22 lavoratori della Tercop. Un risultato straordinario. Dopo tanti anni si interrompe lo stato di precarietà della gestione delle strisce blu con un risultato che ci ha consentito di raggiungere l'obiettivo di mantenere l'impronta sociale della gestione dei parcheggi con la tutela di tutti i lavoratori della Tercop, su cui è stato mantenuto il livello occupazionale e anche migliorata la condizione contrattuale. È chiaro che sia per quanto riguarda la formazione del personale che per quanto riguarda la gestione del servizio e la piena operatività ci sarà un passaggio graduale che dovrà necessariamente richiedere qualche tempo per la messa in regime del nuovo servizio. Per i cittadini da domani però non cambia nulla. No, per i cittadini non cambia nulla. Tra le innovazioni i parcometri? Assolutamente sì. La nuova gestione prevede l'installazione e l'utilizzo da parte dell'utente del mezzo parcometro che da un punto di vista sia tecnologico che normativo riteniamo sia il mezzo più adeguato per poter espletare il pagamento della sosta. Le tariffe sono state diminuite per la seconda ora rispetto alle tariffe precedenti e questo sposa l'idea che la nostra società e che soprattutto la Giunta ci ha chiesto di applicare cioè la turnazione. L'obiettivo è creare posti liberi, quindi non sfavorire una mobilità passiva alla sosta a lungo termine creare turnazione che agevola sicuramente gli esercizi commerciali creando più potenziali clienti e quindi abbiamo deciso di lasciare la prima mezz'ora a 50 centesimi, quindi con un prezzo agevolato proprio a dimostrazione della volontà di creare turnazione e la seconda ora è stata diminuita a 1,20 euro. Intanto, sempre per quanto riguarda i parcheggi, il Comune raccoglie dati, stalli a residenti e lavoratori proposte ed esigenze online per creare le strisce gialle in centro storico riservate ai residenti e ai dimoranti. La pandemia, battaglia legale, assegno alimentare ai NOVAX, l'ASL ricorre al Consiglio di Stato impugnato il provvedimento con cui il Tar ha accolto il ricorso di un'impiegata che era stata sospesa per i giudici del Tribunale regionale va comunque garantita la misura in assenza di altri sostentamenti. Le ordinanze sono tre, per ora l'azienda si è opposta ad una sola, i magistrati hanno sentenziato che al lavoratore va assicurata la sopravvivenza. Oggi si chiude il Braga per il Sociale, il Largo San Matteo in programma il concerto con detenuti e i ragazzi autistici. Il caso in maggioranza al Comune di Teramo, d'Alberto, basta individualismi. Richiamo del Sindaco dopo lo strappo di Teramo Vive, si discute all'interno, continuiamo a lavorare insieme. Teramo, centri estivi, fondi alle associazioni per i bimbi dai 3 ad 11 anni. Ieri c'è stato il Consiglio Comunale dedicato alle interrogazioni, corsie per le bici e sfalci, si riaccende lo scontro in Consiglio. Calcio torna il premio Rodomonti, la cerimonia per l'assognazione dei premi ci sarà l'8 luglio in piazza, riconoscimenti a Campitelli, Orazzi, Del Neri Minguzzi e sei giocatori. Lo scontro è infinito per quanto riguarda i prati di Tivo, gli impianti fermi, un altro stop alla vendita. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del gestore Finori e sospende la sentenza del Tar fino all'udienza del 12 luglio. Salta l'atto notarile tra la GST e la ditta Fratelli Persia e ora la riapertura estiva diventa davvero una chimera. Dopo il voto comunale su 52 eletti le donne sono solo 19, la consigliera di parità Brandi Ferri, troppo poche anche se alcune hanno avuto risultati eccellenti. Valle Castellana agli obiettivi di D'Angelo, il sindaco confermato con il 71%, punto al rilancio del territorio, non ci sarà un nuovo referendum. La cronaca, botte in minacce alla ex operaio arrestato, Terramano di 42 anni, finisce ai domiciliari con il braccialetto elettronico dopo la denuncia della donna. Perde l'udito dopo un'operazione, paga la ASL di Chieti. Il Tribunale Civile condanna anche il medico a risarcire il danno subito da un'imprenditrice sessantenne di notaresco. Addio a Di Giuseppe, storico concessionario della Mercedes-Benz, aveva 91 anni, domani i funerali. Al via il Contro Natura Festival, domani è domenica nel Parco Fluviale e sabato 25 c'è il corteo di Abruzzo Pride. A Campovalano, area archeologica visitabile da domani con i nuovi orari. C'è un inserto oggi all'interno del quotidiano Il Centro dedicato all'Alpinia di 2022. L'Abruzzo abbraccia gli alpini. In 2000, arrivati da tutta Italia, parteciperanno alle gare sportive da oggi fino a domenica. Dall'Aquila a Rocca di Mezzo, ecco il programma delle gare, ancora sport, ricordi e amicizia. In Abruzzo sarà come sempre una grande festa e poi c'è ovviamente tutta la storia e il legame profondo tra gli alpini e l'Abruzzo. Torniamo alle notizie di attualità. Martinsicuro dopo il voto, Vagnoni, la prima fatica sarà a formare la Giunta. Il sindaco riconfermato deve fare i conti con i cinque ex assessori, tutti rieletti e con due ex consiglieri delegati che hanno avuto risultati personali eccellenti. Ad Alba Adriatica è in arrivo atleti da tutta Italia per triathlon e beach volley. Tortoreto del sordo può essere l'erede di Piccioni. L'amministratrice rieletta con 831 voti è già data in corsa per il 2027 insieme a Ripani. Martinsicuro e Villarosa in vigore da ieri parcheggia a pagamento sul lungomare fino al prossimo 15 di settembre. A Giulianova niente sala all'ente porto a Pepe. Il consigliere regionale dice che è grave e scoppia il caso. C'è anche una botta e risposta tra il consigliere e il presidente dell'ente. Il vice capogruppo del PD l'aveva chiesta per parlare dell'interpellanza sui lavori dell'area portuale. Un'offesa alle istituzioni e al mondo della pesca. Si vuole evitare la denuncia ma parlerò sugli scogli di Cepepe. Il presidente Ferrante così ha motivato il diniego. Una conferenza nella nostra sede potrebbe creare solo confusione sul nostro ruolo. Sempre a Giulianova il PD prima le idee e poi vengono i nomi. Il partito sta preparando le comunali del 2024 ma nega di aver promesso a qualcuno la candidatura. Sempre a Giulianova da domani a domenica al paese torna il festival a prodo con teatro, cinema e arte. Caso di inquinamento rivelato dall'Arta. Siamo a Roseto scatta un divieto di balneazione ed è subito polemica. Ordinanza per un tratto compreso tra i lidi Marini e Mirage. Siamo Roseto dice pubblicata in ritardo e senza motivazioni. Consigli di quartiere di Marco e Aloisi tra i presidenti eletti. Pineto sosta caos alla torre. Cerrano scontro sul parcheggio. C'è un altro stop all'area privata. Nuovo provvedimento degli uffici comunali che impone la chiusura dello spazio appena riaperto. Il gestore è pronto a presentare ricorso. Siamo in regola. Chiederemo al TAR di sospendere il blocco. A Pineto, Luna Parc, apertura in ritardo. Italia Viva, la giunta chiarisca. A Pineto, area marina, sport ed escursioni. Fine settimana ricco di eventi al parco, esperti a confronto sui cambi climatici. A Silvi concluso il corso base. Attestati per 35 nonni digitali. L'iniziativa antifrode organizzata dal comune. Ed è tutto per le notizie che arrivano dalla provincia di Teramo. Adesso leggiamo insieme le principali notizie dalla provincia di Pescara. La cronaca corruzione e turbativa d'asta. Cinque arresti. Cinque appalti ASL da 35 milioni. Così Marinelli otteneva i lavori. Secondo la procura, l'imprenditore della sanità in cambio di soldi e favori alla dirigente Petrella riuscì a far escludere una società che aveva vinto questo fammelo subito. Ma adesso è una parte delle intercettazioni che ci sono in questo caso. Montesilvano, la polemica, i messaggi sull'asfalto, strisce pedonali con le poesie. L'opposizione dice sono un pericolo, spunta una diffida al prefetto. Il PD è il Movimento 5 Stelle, rischio incidenti, quelle frasi provocano distrazione. Contestate le frasi motivazionali. Sono un pericolo per i pedoni, infrangono il crodice della strada. La replica del comandante, testi solo sulla prima linea. Così gli attraversamenti restano sempre visibili. All'Aquila la politica, l'intervista dopo le comunali. Pezzo pane, non mi ritiro, la sconfitta è colpa di tutti. La senatrice del PD, sono addolorata ma mi rialzerò anche questa volta, ha dichiarato. A Chieti, Lanciano in particolare, è morto lo storico filosofo Gian Cristofaro. La cultura è in lutto. Il decesso in ospedale ad 84 anni aveva avuto un malore lo scorso 6 giugno nella serata di festa per il suo compleanno. Per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli, il cinema, anteprima per gli azzurri, il viaggio degli eroi, il racconto dell'impresa dei campioni del 1982. In sala il 20, 21 e 22 giugno, il docufilmo sulla vittoria ai mondiali di Spagna con Marco Giallini, narratore. Cabrini, Ola Pelle d'oca, Antonioni, quel gol annullato scotta ancora. Conti, Bearzot, era un padre. A Montorio la rassegna Gran Sasso Live, estate con Panariello, Placido, Morelli, Renga. Ricco calendario a Montorio, tanto teatro, musica, arrivano anche Andrea Morricone e Moro e giochi di strada. Per lo sport, la Serie C, la scelta per la panchina del Pescara. Pescara-Zeman si tratta, ma c'è un altro rinvio. Restano in ballo ancora alcuni nodi da sciogliere, tra cui quello economico. Beach Volley ai mondiali di Roma, Scampoli e Nicolai agli ottavi. Basket C, Silver, lo spareggio di Atri, Pescara si salva, Roseto Academy, retrocede. Il rebus societario per quanto riguarda il Teramo Calcio, iscrizione appesa al contributo degli imprenditori. Campitelli, Brocco di Battista di Giovanni e Spinelli, la proprietà spera di chiudere a breve la raccolta. Tennis Mosciano insegue il secondo posto, l'Aquila Quarta, Lanciano Spera, domenica l'ultimo turno della Serie B. Atletica leggera nel weekend agli assoluti allievi di Milano, c'è attesa per Shanna Mea. Per quanto riguarda il basket di Serie B, Coach Gabrielli guiderà la Teramo a spicchi. Oggi ci sarà la presentazione. Le tappe della promozione, la rugby, l'Aquila in Serie B, primo passo della rinascita. L'allenatore Di Marco, crescere ancora e arriva la gestione del fattore. Il presidente stiamo lavorando per avere una rosa di almeno 25 atleti su cui contare e sul miglioramento delle infrastrutture. Palla a volo di A3, l'Abbapinetto ingaggia il figlio d'arte Merlo. Calcio a 5 donne, Italia vittoria in rimonta con tanto abruzzo a Prato, piegata l'Ucraina. E poi a Silvi, di Marzio va a Silvi, Fontanelle ci riprova, parliamo dei dilettanti. Ed è tutto per quanto riguarda le notizie pubblicate questa mattina dal Quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme il messaggero. Indagini su appalti per 35 milioni, sanità, l'arresto di Vincenzo Marinelli, modeste somme di denaro e cene ai funzionari della ASL, pressioni su sospiri e chiavaroli per ottenere vantaggi, inchiesta inquinata da fughe di notizie. L'opera di Teramo ospedale maxi parcheggio incompiuto sarà completato quasi mille posti auto. Pescara, viale Marconi pericoloso, fuga degli automobilisti, polemiche per i lavori ancora in corso, ostacoli in mezzo alla strada e curve da brivido. I nodi dell'assistenza, ospedali, medici in fuga verso la sanità privata. Il cardiologo Carlo Capparuccia della CISL, pochi specialisti contro la pandemia. Addio al pubblico per motivi economici e per cercare migliori condizioni di lavoro. Al momento non ci sono dottori in grado di garantire il turnover nelle corsie. L'epidemia Covid più 30% di contagi, ma i ricoveri sono in calo. Le varianti Omicron 4 e 5 spingono la diffusione del virus, però in modalità meno grave del recente passato. Pescara, viale Marconi, è oramai una pista pericolosa, fuga degli automobilisti. Spazi ristretti tra le corsie di auto e bus e le rotatorie sono un incubo per chi guida. Sabato si svelano i progetti del concorso con il celebre urbanista Salvador Rueda. All'Aquila, centro storico, l'isola pedonale si allarga a via Fortebraccio. Saranno però lasciate al transito via Santa Giusta, via delle Grazie e via Cimino. Nuova giunta biondi. Ecco tutti i nodi e i possibili incastri. A Fratelli d'Italia andranno tre assessori e forse la presidenza. Alla Lega il vicesindaco De Santis è in pole position e caccia alle quote rosa. Per quanto riguarda il centrosinistra, Pietrucci dice abbiamo perso malissimo. A Chieti, nuovo cimitero a Santa Filomena, lavori fermi, niente primo lotto. Non c'è una data certa per la consegna dei primi posti. Molti acquistati quattro anni fa. Teramo, Mazzini, la ASL annuncia. Completeremo il parcheggio da mille posti. Lavori sulla maxi incompiuta situata davanti all'ospedale. Al momento ne sono stati realizzati soltanto 500. Addio all'originale progetto che prevedeva spazi commerciali al posto degli stalli per le auto. La città che cambia parte in città la rivoluzione della sosta. Costi più bassi con la gestione Easy Help. I pagamenti saranno differenziati a seconda delle zone e degli orari. La soddisfazione del sindaco D'Alberto. Ieri c'è stata la conferenza stampa proprio per presentare la novità. Dunque da oggi la gestione che era stata sempre della Tercop passa alla Easy Help che si è giudicata la nuova gara. L'amministratore ha annunciato diverse novità. Anche l'arrivo presto dei parcometri. Intanto ricordiamo che l'altro ieri i 22 lavoratori della Tercop sono stati riassorbiti dalla Easy Help. Dunque non è stato perso neppure un posto di lavoro. Da oggi ufficialmente questi 22 lavoratori che hanno lavorato per tanti anni con la Tercop sono sulla busta paga della Easy Help. che ricordiamo ha annunciato anche diverse novità sulle tariffe. Ovviamente il cambiamento sarà graduale. I parcometri arriveranno tra qualche tempo. Dunque questa mattina in sostanza per chi andrà a parcheggiare sulle strisce blu a Teramo non ci saranno novità sostanziali. L'evento di Ritti LGBT Festival con le Drag Queen al Parco Fluviale nel prossimo fine settimana. L'evento è stato presentato ieri in conferenza stampa. Giulia Nova nasce il Marina Resort. Nuova attrattiva turistica. Un camping galleggiante sul mare con barche da diporto e yacht ormeggiati presso gli alloggi. Il Comune ha già rilasciato l'autorizzazione all'opera. Si spera così di salvare le casette rimaste inutilizzate. Giulia Nova, il PD ancora nessun candidato sindaco e come abbiamo letto anche sul centro il partito dice prima lavoreremo sui programmi e poi individueremo un nome per le prossime elezioni. Dramma Santomero, sfrattati madre e figlio minorenne. Il Comune ci aiuti. A Roseto, Festival Cinematografico, il ritorno alle origini. Celebrato il regista e sceneggiatore Tonino Valeri, collaboratore di Sergio Leone. Lo sport, Pescara a Roma, Zeman, Tentenna, Dellicarri e Sebastiani dal Boemo per il contratto. Ma si tratta ancora tra scambi di opinioni e rallentamenti. Si aspetta il via libera e l'incontro decisivo. Basket di Serie B, le finali. Le finali, Roseto con le pile scariche cerca la rimonta dei sogni. I riminesi oramai sono la bestia nera dei ragazzi di Quaglia che appaiono stanchi dopo una stagione lunga e durissima. Ma comunque una stagione gloriosa al di là di quello che poi sarà l'esito finale ma non è ancora detta l'ultima parola. Per quanto riguarda la Serie D, bastese, regna l'incertezza, iscrizione, sempre più a rischio. Sempre per la D, Alpineto tante conferme, in attacco spunta Pezzo Bon. Basket, grande gioia tra le donne, Iale centra la promozione, il club di Baldassarre è andato in Serie B battendo 2-0 l'Umbertide. E poi a tenere banco in città, Teramo, sono sempre le vicende societarie dei Biancorossi. Teramo, primo bilancio delle risorse raccolte. A meno di una settimana dalla scadenza della deadline per l'iscrizione, già nella giornata odierna si farà il punto sulle liquidità disponibili del club. Dunque solo una settimana per iscrivere il Teramo in Serie C e per pensare poi a quello che dovrebbe essere, che sarà il futuro della società. L'amministratore unico Chierchia insieme a Davide Ciaccia stanno sondando il terreno e non solo per avere anticipi su futura sponsorizzazione e utilizzare queste liquidità per portare il diavolo ad iscriversi al campionato. Sono diversi anche gli imprenditori locali che si stanno dando da fare. Tra questi c'è l'ex presidente Luciano Campitelli che sta dando una mano al Teramo e poi c'è l'ex presidente, oramai ex presidente del notaresco Salvatore Di Giovanni e anche il numero uno del Pineto Silvio Brocco. Dunque si spera che già nella giornata di oggi si possa avere un primo bilancio positivo per quanto riguarda i fondi raccolti da destinare intanto all'iscrizione al campionato di Serie C che è in scadenza del Teramo, dopodiché si vedrà quale sarà il futuro societario. Sul messaggero c'è un vero e proprio cronoprogramma che prevederebbe che lunedì o se è possibile anche prima vengano fatti i bonifici per staff e giocatori riguardanti le mensilità che mancano di aprile e maggio. Pagamenti che rappresentano una delle condizioni più importanti per avere il rilascio della licenza nazionale. Oltre a ciò si lavora anche sul fronte della fideiussione da 350 mila euro. La fideiussione è un altro atto fondamentale e non è chiaro se dopo il dietro fronte dei giorni scorsi Iachini abbia cambiato idea in merito alla garanzia per l'emissione. L'ex presidente, attuale socio di minoranza, aveva dato disponibilità anche a posticipare il canone di locazione inerente allo stadio Bonolis, ma non è dato sapersi se sotto questo aspetto ci sia stato allo stesso modo un passo indietro dopo i cori dei tifosi indirizzati contro di lui nel corteo di sabato scorso. Insomma l'ex presidente si disse subito rammaricato per le frasi pronunciate dai tifosi durante quel corteo. E come sempre negli ultimi anni anche questa è un'estate bollente per il terramo calcio soprattutto per le sorti della società. Beach Volley, Mondiali, Nicolai e Scampoli Super brillano le stelle a Roma. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Per il momento ci fermiamo qui ma ci ritroveremo tra breve alle 9 sempre in diretta con la trasmissione a colazione. Questa mattina saranno straospite anche per commentare le notizie che abbiamo appena letto l'assessore al sociale del comune di Teramo, Ilaria De Sanctis. Grazie per l'attenzione, ci vediamo più tardi. Grazie per l'attenzione, ci vediamo qui.